Bentornati e quella che vedete adesso è la Honda Urban SUV con la voce di Marco Cereda che ci illustra tutte le particolarità di questo nuovo SUV urbano della casa giapponese. Un nuovo concetto di veicolo Honda ha fatto il suo debutto mondiale al Salone Internazionale del Nord America, Nias, a Detroit. Tale concept accenna alla direzione stilistica di un piccolo SUV completamente nuovo che sarà lanciato in Giappone alla fine del 2013 e negli Stati Uniti nel 2014. Il modello verrà successivamente introdotto in Europa. Il concept Urban SUV rappresenta l'espansione dei veicoli che saranno basati sulla nuova piattaforma globale di serie Honda che comprende Honda Fit, Jazz in Europa e Honda City. Il concept Urban SUV progettato per fornire spunti estetici per un nuovo piccolo SUV evidenzia uno stile pulito e raffinato, linee dinamiche ed una forte stazza. Il concept Urban SUV sarà esteso in tutto il mondo e sarà alimentato dalla Heart Dream Technology efficiente tecnologia Honda. Il nuovo modello utilizzerà l'originale disegno Honda del serbatoio in posizione centrale che caratterizza la Honda Jazz Fit e includerà i sedili magici Honda che permettono un'ampia scelta di configurazioni dei sedili per la massima versatilità. Il piccolo SUV verrà prodotto nello stabilimento Honda del Nord America nei presidi Selaya in Messico insieme alla Fit, modello che in Europa è stato denominato Jazz.